Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Eccoci con la diretta che avevamo previsto per la giornata di oggi. Alcune novità con questo software che sto utilizzando da qualche settimana. Sto trasmettendo contemporaneamente su YouTube e su Facebook. Quindi spero che il live vada bene e soprattutto che non ci siano problemi dal punto di vista dell'audio e del video. Comunque è assicurato che il server è sempre gestito dalla società, quindi non dipende dalla mia banda. Il fatto di trasmettere su due piattaforme mi è assicurato appunto da StreamYard. Speriamo che il live di oggi, questo esperimento, abbia successo. Ovviamente è meglio per tutti avere due piattaforme su cui trasmettere. C'è chi preferisce Facebook e chi preferisce YouTube. Così ognuno può seguire dal proprio social network, insomma. Bene, ho preparato la diretta di oggi dove ovviamente alla luce di quello che è successo nelle ultime ore, negli ultimi giorni ci concentreremo esclusivamente sul Bitcoin. Quindi non faremo un'analisi di mercato a ampio spettro come faccio solitamente, ma appunto ci concentreremo proprio sull'analisi tecnica fondamentale del Bitcoin. Quindi inizieremo con la parte tecnica. Vi andrò a condividere il grafico del Bitcoin. Andremo ad analizzare quelli che sono i livelli di prezzo chiave più importanti da monitorare. Poi passeremo alla parte fondamentale. Lì abbiamo molta carne al fuoco. Non ultimo il report che è stato diffuso da Bloomberg. Un'analisi approfondita del Bitcoin e del mercato cripto che dobbiamo assolutamente analizzare con attenzione perché ci fa capire come i grandi fondi di investimento e gli investitori istituzionali stiano guardando davvero con molta attenzione al settore delle criptovalute in questa fase. Ragazzi, datemi un feedback nei commenti sull'audio e il video. Leggo già audio e video ok. Aspettiamo un altro paio di feedback così quando sono sicuro che tutti mi sentite e vedete bene possiamo partire. Quindi come vi dicevo oggi ci concentreremo sul Bitcoin. Appena mi date in là, audio e video perfetti, perfetto. È proprio quello che volevo sapere. Partiamo. Quindi oggi facciamo un po' un andamento inverso. Di solito parto dall'analisi fondamentale e poi andiamo nei grafici. Invece oggi andiamo subito sul grafico del Bitcoin. Vi condivido subito il grafico. Ecco qui, credo che si veda molto bene. A questo punto ve lo espando a tutto schermo. Cominciamo ad analizzare quelli che sono i livelli di prezzo. Ok, quindi audio e video vedo bene feedback positivi ovunque sia su YouTube che su Facebook. Perfetto. Direi che a questo punto possiamo partire. Allora, vedete, vi ho evidenziato. Intanto ho utilizzato il grafico a quattro ore perché ci dà la possibilità sia di scendere nei dettagli, però allo stesso tempo abbiamo anche l'opportunità di avere un quadro d'insieme piuttosto ampio. Allora, la prima particolarità che abbiamo sicuramente visto ieri, ho anche fatto vari post sul gruppo Facebook e sul mio canale Telegram Bitcoin Facile, è il breakout di R1, questa resistenza qui, che vedete già sostanzialmente da inizio marzo ha contenuto la quotazione, ha respinto in più occasioni il Bitcoin. Quindi sicuramente questo breakout è significativo dal punto di vista della price action di breve termine. Possiamo notare, infatti, come già qualche giorno prima, se osserviamo questa trend line qui gialla, che adesso ovviamente non posso stringere il grafico, però unisce i massimi decrescenti dal top di metà febbraio, di 10.500 dollari. Quindi tutta questa serie di massimi decrescenti, compreso questo tra il 6 e il 9 aprile, la trend line è stata violata qui il 16 aprile e questo è stato già un primo step molto importante per il Bitcoin, perché ha lasciato presagire sicuramente una forza importante, una prova di forza importante del Bitcoin, che è andato a violare il primo livello di resistenza statico, dato appunto dalla trend line, che univa i massimi decrescenti da metà febbraio. Poi abbiamo visto come il breakout decisivo sia stato questo che è avvenuto ieri, intorno all'ora di pranzo, che ha determinato prima la rottura di questa trend line di breve periodo, che univa i due massimi decrescenti. Vedete qui questo del 6 e del 9 aprile, e questo qui del 18 aprile, è stato un massimo decrescente che magari sul grafico non è stato entusiasmante, perché sapete bene che un trend a rialzo si sviluppa essenzialmente su una serie di massimi e minimi crescenti. Quindi il primo massimo decrescente è stato sicuramente un campanello d'allarme. Comunque la quotazione è andata a ritestare, vedete qui questa trend line che unisce i minimi, questa volta tutti si crescenti, la trend line ha supportato efficacemente la quotazione, dopodiché c'è stato il breakout molto importante, e attualmente il bitcoin sta cercando di consolidarsi sopra i 7500 dollari. Un'altra valutazione che dobbiamo fare è sicuramente questa in merito alla rottura del trading range in cui si è mosso il bitcoin dal primo aprile. Ve l'ho evidenziato qui, vedete questa linea verde sui 6600 dollari e la resistenza R1 a 7450. Questo è stato esattamente il trading range all'interno del quale il bitcoin si è mosso per tre settimane abbondanti. All'interno di questo trading range, vedete come questa serie di minimi crescenti ci faccia proprio vedere come il bitcoin stia sostenendo una crescita lenta ma costante. E questo è sicuramente importante, non scordiamoci che siamo con l'alving alle porte, e quindi ragionevolmente andremo incontro a molto hype sul mercato, ma questo poi lo vedremo nella parte fondamentale. Quello che adesso voglio analizzare con voi velocemente è lo scenario di breve termine, quindi da qui ai prossimi giorni, al massimo da qui a sette giorni. Quindi lo scenario verosimile nel corso del fine settimana è un tentativo di consolidamento su quest'area di prezzo, quindi un bitcoin nel range 7800-7500, non è da escludere anche un pullback che va da ritestare il supporto, quindi sostanzialmente la zona del breakout che va dai 7200 ai 7300 dollari, e quindi questo dovrebbe essere l'andamento della quotazione nel corso del fine settimana. Ovviamente non possiamo escludere anche un tentativo, un nuovo tentativo del bitcoin che tenti di rompere, di violare anche 7800 dollari e di portarsi sopra gli 8000. Dal mio punto di vista, credo che questo scenario sia più probabile all'inizio della prossima settimana, quindi un tentativo importante di superamento anche dei 7-8. Nel corso del weekend, considerato anche i volumi relativamente bassi, di solito non ci sono movimenti importanti, poi consideriamo già, abbiamo avuto un breakout significativo ieri, quindi ragionevolmente possiamo aspettarci anche una fase di consolidamento dove i rialzisti appunto tendono più a consolidare il livello guadagnato che non a spingere ulteriormente la quotazione al rialzo. Comunque questi sono i due scenari di breve termine. Ripeto, dal mio punto di vista è più ragionevole aspettarsi nel corso del weekend un tentativo di consolidamento sugli attuali livelli statici, però non è da escludere, ripeto, che ci sia un tentativo di breakout sui 7-8. L'hype sul mercato è veramente molto alto e adesso passiamo appunto a vedere quella che è l'analisi fondamentale del Bitcoin e evidenzio quelli che sono i punti principali che dobbiamo considerare con molta attenzione. Allora, intanto, come ho anche scritto nella mia analisi quotidiana sul Telegram Bitcoin Facile, il breakout di ieri è una conferma ulteriore della decorrelazione lenta ma costante che il Bitcoin sta avendo in riferimento ai mercati azionari. Ricordate che da metà marsula quando c'è stato il crash del Bitcoin ma di tutti i mercati sostanzialmente sull'onda diffusione del coronavirus e sulla successiva crisi finanziaria che ha innescato attraverso i lockdown in tutti i principali stati. Bene, in quei giorni ovviamente il Bitcoin, ma come tutte le asset class del panorama finanziario si sono mosse sostanzialmente all'unisono. Mentre abbiamo visto come nelle ultime settimane attraverso quella formazione di minimi crescenti il Bitcoin abbia mostrato una forza relativa molto importante un tentativo quindi di andarsi proprio a decorrelare dagli indici azionari che invece aveva seguito ma ripeto, quella è stata una dinamica di tutti gli asset dall'inizio di marzo fino all'acme del crash che c'è stato a metà marzo. Un altro aspetto che dobbiamo considerare con molta attenzione è l'hype generata dall'Halving come già avevo scritto qualche giorno fa è sicuramente importante vedere e monitorare con molta attenzione quello che è il progresso dell'hype generato dall'Halving ormai siamo a tre settimane ci sono i calcoli che sono stati fatti in base alla media dei blocchi che vengono minati ogni dieci minuti ci parlano di un Halving indicativamente tra diciotto giorni quindi questo è un altro elemento che dobbiamo valutare con molta attenzione inoltre la capitalizzazione delle stable coins in continuo aumento nell'ultima settimana abbiamo visto come nel giro di venti giorni circa la capitalizzazione totale delle stable coins sia passata dai 6 miliardi ai 9 miliardi con tetra ovviamente che domina la fetta di mercato relativa alle stable coins questo ovviamente ha due chiavi di lettura la prima è quella che i traders gli investitori stanno aumentando le proprie dotazioni di liquidità all'interno degli exchange proprio per sfruttare il movimento a rialzo che ormai molti si aspettano proprio a riusso dell'Halving l'altra considerazione che dobbiamo fare è quella sul fatto che molti investitori soprattutto magari in quei paesi che stanno soffrendo una fase di crisi monetaria pesante innescata e amplificata dallo shock e dalla crisi del coronavirus stanno cercando proprio di uscire dal sistema finanziario di fuggire dal sistema finanziario tradizionale e utilizzano appunto il mercato delle stable coins che consentono di spostare di far uscire sostanzialmente il proprio capitale dal sistema bancario e portarlo all'interno dell'ecosistema cripto quindi l'ultimo aspetto che dobbiamo vedere è quello relativo al sistema finanziario sotto shock della crisi economica innescata dal coronavirus e abbiamo già detto nelle precedenti dirette come questa dinamica ovviamente comporterà il fatto che le banche centrali inietteranno un fiume di liquidità all'interno del sistema finanziario per evitare che la recessione si trasformi in depressione e questo inevitabilmente amplifica dinamiche come inflazione e svalutazione delle valute fiat e questo ovviamente a beneficio del bitcoin e del mercato delle criptovalute che come sapete dopo l'halving il bitcoin sarà uno dei pochissimi asset forse insieme all'oro che garantirà appunto taglio del 50% dell'offerta e allo stesso tempo dell'inflazione che vi ripeto sempre passerà per la prima volta sotto il 2% annuo al momento dell'halving e a questo punto vi voglio condividere anche questo famoso report di Bloomberg di cui molti stanno parlando negli ultimi giorni e che devo dire ha veramente delle particolarità interessanti che voglio condividere con voi ovviamente il report è molto lungo e in inglese quindi andremo a fare giusto dei flash vi evidenzio io quelle che sono le due parti che a mio avviso meritano di essere attenzionate nel dettaglio allora questo è sicuramente il primo aspetto molto interessante qui praticamente Bloomberg ci dice che il bitcoin come abbiamo già anticipato nella prima parte della diretta sta transitando dalla fase bearish dove era correlato allo standard and post 500 qui Bloomberg ovviamente utilizza l'SP500 come benchmark per i mercati azionari e si sta spostando verso una correlazione più marcata con l'oro per andare proprio a seguire l'oro nel suo prossimo ipotetico trend a rialzo vediamo qui come nella parte bassa siano evidenziate le correlazioni con l'oro chi segue il canale sa già che dieci giorni fa è stato raggiunto il massimo storico del livello di correlazione tra oro e bitcoin mentre vedete nella parte bassa della chart dove si evidenzia la correlazione tra gli indici azionari e il bitcoin dopo il picco che è stato raggiunto a inizio marzo a metà marzo proprio sull'apice del crash dei mercati azionari e di tutti i comparti adesso questa curva sta tornando verso il basso e comunque se andiamo ad analizzare l'andamento del bitcoin negli ultimi anni vediamo che c'è una chiara correlazione con l'oro mentre la correlazione con il mercato azionario ovviamente avviene solamente in quelle fasi dove i mercati soffrono gli indici azionari tendono a scontare delle perdite e ovviamente tendono a trascinare giù con sé tutti gli asset principali quindi questo è il primo aspetto che dobbiamo considerare secondo Bloomberg nel corso del 2020 il bitcoin avrà un andamento simile all'oro dopodiché c'è un altro aspetto interessante a mio avviso che è passato un po' sotto traccia ma che io ho spesso evidenziato nelle mie analisi per chi conosce bene il mercato dei derivati è abbastanza lapalissiano qui Bloomberg utilizza il termine domare taming futures taming the bitcoin bull quindi ci sta dicendo che i derivati i futures nello specifico hanno domato i tori del bitcoin quindi nel corso del report ci spiega come ovviamente dal punto di vista di Bloomberg questo sia un vantaggio perché in questo modo si è andato a calmierare a stabilizzare il prezzo quindi andando anche ad agire sulla volatilità che invece è uno dei pregi a mio avviso del mercato delle criptovalute che continua ad attrarre investitori quindi Bloomberg ci dice che attraverso i derivati e nello specifico i futures sui mercati regolamentari quindi ad esempio come quelli alla Chicago Mercantile Exchange la CME servono proprio a stabilizzare i prezzi del bitcoin e a ridurre la volatilità ovviamente allo stesso tempo l'aumento dell'open interest quindi degli investitori istituzionali che operano in queste borse e quindi entrano nel mercato delle criptovalute attraverso i derivati ovviamente ci mostrano un chiaro interesse degli investitori istituzionali ma questo lo possiamo evincere chiaramente anche andando a osservare i report che vengono diffusi dal fondo Grayscale che è un altro fondo riservato agli investitori istituzionali che spesso pubblica questi report con dei focus sulle principali criptovalute ma anche un report diffuso qualche giorno fa dalla stessa Chicago Mercantile Exchange in collaborazione con l'exchange Bitstamp dove appunto hanno mostrato come negli ultimi mesi ci sia proprio un chiaro aumento dell'interesse degli investitori istituzionali per quello che è il comparto delle criptovalute quindi ragazzi questo è l'andamento è un'analisi tecnica e fondamentale di quello che è il Bitcoin e di tutto il mercato cripto che ovviamente in questa fase sta cercando di decorrelarsi lentamente da quello che è l'andamento dei principali indici azionari e nel medio lungo termine ovviamente questo sarà anche favorito da quello che dicevamo prima quindi dai tassi di interesse portati a zero e che probabilmente andranno in negativo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi quindi gli investitori non avranno più modo di remunerare il capitale magari attraverso investimenti in obbligazioni o in società solide o in obbligazioni statali come i bond o i treasury americani per non parlare dei conti correnti che ovviamente con i tassi negativo quindi si dovrà pagare per tenere la liquidità nei conti correnti a fronte di questo scenario ragionevolmente gli investitori andranno alla ricerca di quegli asset che gli portano sia dalla svalutazione e dall'inflazione che abbiamo visto con i tassi a zero con la liquidità iniettata dalle banche centrali ovviamente si diffonderà nel mercato finanziario ma anche dobbiamo considerare cercheranno anche un asset che allo stesso tempo gli garantisca di remunerare il capitale e la liquidità quindi questi sono gli scenari che a mio avviso dobbiamo tener presente nel medio lungo termine non possiamo escludere che nel breve termine invece magari il fatto che nei mercati finanziari ci sia ancora uno scenario incerto dovuto al fatto che non si sa ancora quando i lockdown e quando il coronavirus sarà efficacemente contenuto e quindi quando le aziende e i livelli di produttività e sostanzialmente la domanda aggregata dagli stati coinvolti tornerà ai livelli pre-crisi quindi questo scenario di incertezza magari nel breve termine porterà ancora a delle fasi destabilizzanti sui mercati finanziari che potrebbero riverberarsi anche sul mercato cripto ma sicuramente nel medio lungo termine andremo a vedere una totale decorrelazione tra gli indici azionari e il bitcoin bene ragazzi direi che possiamo passare a questo punto alla fase di domande e risposte credo di aver spiegato ed esaurito tutti gli argomenti che avevo preparato per voi e per questa diretta allora vediamo se c'è qualche domanda allora non ho capito se condividi con il fatto che i future hanno calmirato la volatilità del bitcoin e che conseguenze nel lungo termine calmireranno anche il prezzo allora io condivido il fatto che i futures siano serviti proprio a domare usiamo il termine giusto a domare il mercato quello che non condivido è l'approccio che ha Bloomberg perché Bloomberg è stato un bene che siano stati introdotti degli strumenti derivati per calmirare il mercato e quindi domare questa volatilità eccessiva ma quella che è stata domata a mio avviso è stato il rialzo del bitcoin perché senza gli strumenti derivati avremmo avuto sicuramente tutto un altro scenario nel corso del 2018 2019 per chi non sa il funzionamento dei derivati attraverso l'utilizzo di leva massiccia si può sostanzialmente creare una domanda scusate un'offerta artificiale quindi impostare ordini di vendita attraverso un'offerta anche senza possedere l'asset se io vado su una piattaforma che opera in bitcoin futures che può essere quella della chicago mercantile exchange quindi piattaforma regolamentata o può essere anche exchange bitmex ad esempio se io ho 100.000 dollari e utilizzo una leva altissima leva 100 capite bene che io posso moltiplicare il mio potere contrattuale del 100 volte cioè io posso mettere degli ordini di vendita quindi short selling posso andare a shortare posso creare un'offerta fittizia artificiale sul mercato anche senza possedere l'asset per questo gli strumenti derivati agiscono in questo modo e fanno sì di contenere calmierare la volatilità il prezzo del bitcoin che sicuramente senza l'introduzione dei futures nel corso del 2018 2019 avrebbe avuto un altro andamento ma questo ce lo sta dicendo anche Bloomberg non lo nasconde ma è evidente che così è evidente chiunque conosce i mercati derivati sa che è l'andamento io ovviamente condivido che questo sia stato un bene e faccio anche un altro ragionamento per quale motivo le autorità di controllo rilasciano senza problemi alle borse regolamentate come la Chicago Mercantile Exchange o come anche New York Stock Exchange che ricordo regola BACT la possibilità di lanciare strumenti derivati come i futures quindi aperti agli investitori istituzionali e invece non approvano un ETF un Exchange Traded Fund per quale motivo? come si dice a pensare male si fa peccato ma spesso si indovina che attraverso gli strumenti derivati attraverso i futures si può agire con questi meccanismi che vi ho detto mentre uno strumento come l'ETF fa sì che la platea di investitori si allarghi in misura esponenziale che anche chi magari non ha la praticità l'expertise informatica possa entrare nel mercato cripto attraverso una semplice telefonata al proprio broker alla propria banca o magari attraverso la propria piattaforma di home banking quindi è uno strumento che veramente darà un boost significativo al mercato delle criptovalute però casualmente si tarda ad approvare questi ETF mentre invece si dà semaforo verde con una facilità abbastanza disarmante se poi si paragona lo stracismo che si fa all'ETF quindi anche potremmo utilizzare questa chiave di lettura per andare a vedere come attraverso i derivati si stia tentando di di imbrigliare di domare il mercato che poi è esattamente oggettivo che ha utilizzato Bloomberg dicendo addomesticare i futures hanno addomesticato i tori del bitcoin allora secondo te è possibile un ritorno a 20k nel lungo termine sicuramente sì sicuramente avremo un nuovo tentativo di superamento dei vecchi massimi storici ovviamente ragioniamo in questi termini l'alving produrrà i suoi effetti benefici nel lungo termine io mi aspetto che avremo il picco del ciclo del nuovo ciclo dell'alving non prima del secondo semestre 2021 quindi parliamo comunque di un anno un anno e mezzo però sicuramente ci sarà un tentativo di superamento dei vecchi massimi storici durante questo ciclo dell'alving che appunto andrà a esprimersi nei prossimi 12-18 mesi poi ragazzi vi condivido il report di Bloomberg ve lo lascio nei commenti qui la stessa Bloomberg dice che ragionevolmente il bitcoin aggiornerà i suoi massimi storici quindi supererà i 20.000 Bloomberg ricordiamoci che è come se parlassimo del sole 24 ore con le dovute differenze ovviamente in Italia a livello internazionale è una testata economica molto prestigiosa quindi è ovviamente riferita al settore finanziario centralizzato quindi se Bloomberg ci fa questo genere di previsioni non vedo per quale motivo non dobbiamo anche noi dar credito ovviamente loro hanno la prospettiva dell'investitore tradizionale dell'investitore istituzionale però nel report la stessa Bloomberg ci dice come il bitcoin stia transitando dalla fase di asset speculativo a oro digitale queste sono parole pesanti molto pesanti e importanti dette da un da Bloomberg da una testata internazionale come Bloomberg ci sta dicendo che il bitcoin sta attraversando la transizione da asset speculativo a oro digitale e questo è sicuramente da tenere in considerazione poi vi ripeto vi lascio nei commenti il report in inglese vi consiglio di leggere attentamente perché è davvero molto interessante capire anche la prospettiva degli investitori istituzionali ciao Christian considerando lo scenario bullish come ci vediamo col gap intorno ai 3.000 non sarà chiuso ma questo ne ho già parlato in altre dirette così il gap a cui fai riferimento tu non è sul grafico giornaliero ma è sul grafico a 4 ore sul grafico della Chicago Mercantile Exchange su Bitcoin Futures quindi non è significativo e poi comunque i gap down non hanno tendenzialmente e storicamente non devono essere colmati non c'è certezza che vengano colmati mentre quelli che si generano al rialzo i gap hanno più probabilità di essere colmati comunque aggiungiamoci anche che il gap non è visibile sul grafico giornaliero bensì solo su quella a 4 ore quindi a mio avviso non ha valenza statistica significativa la DeFi potrà essere la scintia della nuova Bullrun anche come invece si sta strutturando con DeFi e Oracle sì assolutamente questo è un altro tassello molto importante attraverso la finanza decentralizzata come ripeto sempre tutta quella parte di popolazione mondiale unbanked e underbanked che non ha accesso al sistema finanziario tradizionale io vi faccio sempre l'esempio pensate che negli Stati Uniti 10 milioni di persone hanno un conto corrente e nel mondo si stima che ci siano 3 miliardi di persone con accesso limitato al sistema finanziario quindi la DeFi la finanza decentralizzata sarà proprio la backdoor per questa parte significativa di popolazione mondiale che finalmente avrà accesso a un nuovo sistema finanziario quindi sì sicuramente sarà una componente fondamentale della bull run e anche di una crescita della curva di adozione delle criptovalute del bitcoin che è l'altro assello fondamentale che dobbiamo monitorare attentamente ricordiamoci sempre quel report pubblicato da una serie di banche tra cui anche la Deutsche Bank dove si vedeva il parallelo tra la curva di adozione di internet negli ultimi vent'anni è quella della blockchain e del bitcoin soprattutto nei primi anni e quindi la previsione ai prossimi anni la curva di adozione muove sostanzialmente in parallelo quindi ciò sta dicendo Deutsche Bank non ciò sta dicendo Antonopoulos o qualche coin addicted insomma quindi se veramente quella curva manterrà quell'incidenza nei prossimi anni dobbiamo aspettarci un livello di adozione veramente importante il tivium potrebbe essere influenzato dall'alving bitcoin ma sicuramente sì perché l'alving bitcoin porterà comunque hype e entusiasmo su tutto il mercato poi ovviamente dovremmo distinguere sempre il bitcoin che sta assurgendo al ruolo di riserva di valore di oro digitale vi ripeto come ci sta dicendo anche Bloomberg quindi tutto il discorso relativo all'alving quindi di mezzamento dell'inflazione di mezzamento dell'offerta farà sì che il bitcoin sarà ovviamente uno degli asset principe del settore a cui gli investitori si rivolgeranno proprio in funzione di protezione tra le dinamiche di svalutazione e inflazione ma ci sono anche altre criptovalute che ovviamente stanno performando e performeranno molto bene ma proprio perché offriranno un'altra prospettiva è proprio un altro prodotto al mercato quindi Ethereum sarà sicuramente la backbone la spina dorsale della DeFi della finanza decentralizzata ma rimanendo sempre all'interno della top 30 del mercato cripto da parte mia consiglio sempre di non uscire dalla top 30 perché poi si va si corre il rischio di investire in progetti che non hanno fondamenta solida quindi rimanendo nella top 20 top 30 del mercato che ci dà anche un buon livello di sicurezza dal punto di vista della protezione dell'investimento sicuramente ci sono molte criptovalute che hanno dei margini di crescita davvero significativi nel medio-lungo periodo proprio e in virtù anche del bitcoin halving che genererà un livello di hype davvero notevole nel mercato con l'halving in arrivo e l'aumento di liquidità prevista presumibilmente fino a dove si potrebbe spingere bitcoin almeno nella prima fase questo non è difficile dirlo però si possono fare delle analisi ovviamente con dei dati io sto preparando un articolo che pubblicherò nei prossimi giorni sul mio blog dove appunto analizzo e provo a prevedere una serie di scenari quindi le probabilità che il bitcoin raggiunga il suo picco del ciclo a seconda delle dinamiche che dovremo affrontare nei prossimi mesi quindi ci sono vari aspetti da considerare e sicuramente quello dell'aumento della liquidità sia dal fatto che le banche centrali stanno iniettando nuove liquidità nel settore e sia che l'hype generato dall'halving e dal fatto che il mercato cripto viene concepito soprattutto il bitcoin come uno dei pochi asset che garantiscono protezione dall'inflazione quindi ovviamente tutto questo farà sì che entrerà nuova liquidità nel mercato però fare previsioni di prezzo al momento sinceramente non è non è fattibile perché abbiamo pochi elementi nel mio articolo cercherò di analizzare tutte le prospettive tra cui c'è anche quella che dopo l'halving magari quella parte di investitori che non conoscono bene il mercato e che si aspettavano un'esplosione del prezzo subito dopo il taglio del block reward magari rimarranno un po' delusi e gli daranno parte delle proprie posizioni quindi magari nel breve termine subito dopo l'halving nelle settimane successive potrebbe esserci una leggera correzione dovuta proprio al fatto che chi si aspettava un'esplosione del prezzo subito dopo l'evento halving sarà deluso però non abbiamo neanche la certezza di queste dinamiche dovremo anche considerare e metterci dalla prospettiva dei miners però qui ragazzi poi l'argomento diventa veramente lungo forse dovremo fare una diretta a parte per questo argomento non è detto che dopo che ho pubblicato il mio articolo magari faremo una per cercare proprio di andare a prevedere quello che è lo scenario post halving per quanto riguarda l'andamento della quotazione del bitcoin ciao chissà volevo farti una domanda un po' forse fuori discorso indicativamente mi sei dire quanto è lo spread tra mercato tradizionale e mercato ottisi su bitcoin allora in realtà non c'è uno spread considera che sul mercato verde counter spesso sono due controparti a mettersi d'accordo la piattaforma il desk che fa da intermediario quindi poi in realtà lì durante la trattativa si può creare chiaramente uno spread tra lo spot market e quello che avviene ottisi considera che generalmente parliamo di transazioni sopra i 100k i 100.000 dollari ma spesso e volentieri sopra il milione di dollari e con quei prezzi ovviamente le percentuali di sconto quindi chi va a vendere ovviamente deve riconoscere all'acquirento una percentuale di sconto significativa che di solito per esperienza personale oscilla almeno tra i 2 e il 3 tercento quindi poi dobbiamo fare anche queste valutazioni qui in realtà non c'è un indice di riferimento che ci dà una quotazione standard nell'OTC proprio perché è una trattativa tra due controparti con il desk che fa semplicemente da intermediario quindi non c'è uno spread è un index ufficiale che può darci lo spread tra spot market è OTC market vediamo le ultime due domande poi chiudiamo oggi si dice che il prezzo corrente prima di ultimo rialzo sia il prezzo giusto per bitcoin ovviamente dopo l'holding non sarà più così cosa succederà se i futures non si adatteranno al cambiamento mantenendo basso il prezzo è possibile questo scenario secondo te premetto mi sono perso parte del webinar per motivi dipendenti dalla mia volontà no allora il discorso che il prezzo è giusto lì poi dovremmo fare tutta una valutazione sul valore intrinseco del bitcoin quindi dovremmo andare a vedere il prezzo medio per minare ogni bitcoin a livello mondiale quindi per una media di tutti i paesi dove c'è il mining quindi in questo modo potremmo calcolare il valore intrinseco ma non ha molto senso neanche concentrarci troppo sul fatto se i futures si adatteranno principalmente i futures sono degli strumenti derivati in cui investono investitori istituzionali grandi fondi di investimento e chi ha una disponibilità economica importante ovviamente se nello spot market c'è un aumento importantissimo della domanda a quel punto non i futures che tengono è scritto anche nel report di Bloomberg se la domanda nello spot market eccede di molto l'offerta non ci sono futures che tengono lì poi il prezzo sale e basta non c'è modo di calmerarlo anche utilizzando offerta artificiale fittizia come abbiamo visto prima quindi quello che dobbiamo considerare bene è vedere come le dinamiche che abbiamo elencato nella prima parte del webinar quindi sia dal punto di vista tecnico che fondamentale faranno sì che aumenti la domanda di bitcoin sul mercato spot e questo ovviamente poi trascinerà con sé anche il mercato dei derivati Cristian però il fatto che molti derivati lavorano a leva avrebbe dovuto aumentare la volatilità o sbaglio ma allora il discorso ovviamente se tu mi fai ragionamento partono degli ordini come abbiamo fatto ad esempio prima leva 100 con un margin wallet sostanzioso da centinaia di migliaia di dollari tendenzialmente dovrebbero aumentare la volatilità e magari nel breve termine è così il discorso è che è sempre comunque lo spot market a dare la direzione al prezzo quindi anche se sui derivati noi andiamo a impostare degli ordini importanti se lo spot market trascina il prezzo ovviamente lì poi non c'è strumento derivato che tenga il discorso è che spesso nelle fasi di stabilizzazione di consolidamento della quotazione quindi con volumi bassi soprattutto nello spot market si può andare a incidere sul mercato dei derivati con le dinamiche che abbiamo visto prima quindi facendo un esempio pratico se è su BitMEX o su Bybit o tutti Binance Futures dove è possibile operare a leva 100 se non 125 io piazzo un muro di vendita da sparo una cifra a caso 20.000 bitcoin utilizzando la leva 125 io ovviamente non ho quei 20.000 bitcoin sto utilizzando una leva 100 una leva 125 quindi moltiplico per 100 la mia dotazione per questo intendo offerta artificiale e fittizia poi questo è spiegato bene anche nel report di Bloomberg sto scrivendo anche a mia volta un articolo dove spiego bene il funzionamento dei derivati così tutti questi aspetti sono più chiari ovviamente quel muro di vendita a cui abbiamo fatto riferimento farà sì che la quotazione non riesca a passare a effettuare il breakout del livello quella ovviamente è il classico muro di vendite ma creato artificialmente attraverso strumenti derivati e l'utilizzo della leva gli investimenti a lungo termine non va più come strategia se ci sarà sempre questa volatilità che ne pensi e poi un'altra domanda ma Ethereum non ha più quel potere di prima e con gli smart contract allora l'investimento a lungo termine dal mio punto di vista è sempre il migliore per il bitcoin però è anche opportuno integrarlo con il trading perché se noi possiamo guadagnare dalle oscillazioni del mercato perché non farlo avremo due portafogli uno di lungo periodo con il 50% del capitale e l'altro 50% del capitale dedicato al trading per sfruttare tutte le oscillazioni che un mercato estremamente volatile come quello crypto offre all'investitore e al trader esperto che può sfruttare a proprio vantaggio tutti i trend secondari e di breve termine magari anche all'interno di un trend primario al rialzo Ethereum non è questione di potere ovviamente nel 2017 2018 ha sfruttato il fatto che era la blockchain principe dove tutte le initial coin offering implementavano la propria offerta ovviamente adesso la situazione è un po' diversa però comunque Ethereum si sta proponendo come spina dorsale della finanza decentralizzata abbiamo visto ok ragazzi l'ultima domanda poi chiudiamo che siamo arrivati alle 7 e un quarto tre quarti d'ora che è il tempo che voglio far durare i webinar proprio per far sì che siano fruibili da tutti e non diventino poi troppo pesanti allora secondo te è possibile adesso che vado a cercare un higher low sul settimanale testando i 7 e 8 immagino come top per ora sì potrebbe essere io più che adesso cercare di anticipare il mercato perché in questa fase comunque sì di calma piatta però la volatilità è sempre dietro l'angolo abbiamo visto anche come sui mercati azionari sui mercati delle commodities addirittura il petrolio si è andato in negativo sui futures di maggio qualche giorno fa poi sullo spot market si è fermato intorno ai 3-4 dollari al marile comunque in questa fase appunto più che cercare di anticipare il mercato io sto monitorando attentamente i livelli di reazione quindi i supporti alle resistenze per vedere come reagisce la quotazione e poi in base a quello ovviamente metto in pratica le mie strategie operative quindi i 7-8 8 mila dollari sono sicuramente un livello di resistenza importantissimo un breakout di quell'area di prezzo che ricordiamoci anche il point of control di tutto il 2019 quindi l'area dove c'è stato maggior volume di scam nel corso del 2019 un breakout dei 7.800 8 mila dollari ovviamente aprirà le porte a nuovi rialzi e a nuova FOMO fear of missing out nel mercato ricordiamoci proprio come il breakout dei 7.800 dollari a gennaio abbia dato in là al rally del bitcoin che ha raggiunto a metà febbraio i 10.500 dollari io infatti avevo registrato proprio un video a inizio gennaio su youtube dove avevo scritto se il bitcoin rompe questo livello sono bullish e quel livello era esattamente 7.800 dollari quindi da monitorare con molta attenzione ovviamente come ho già detto nella prima parte non è da trudere che nel tentativo di consolidamento sui 7.500 il bitcoin magari abbia una correzione un pullback sul supporto in zona 7.2 7.3 comunque in questa fase è sempre opportuno monitorare con attenzione i livelli di prezzo e non cercare di anticipare il mercato va bene ragazzi siamo giunti al termine del live spero di avervi fornito tutti gli elementi utili per preparare la vostra strategia di trading o anche per sviluppare il vostro piano di accumulo quindi per un investimento di lungo periodo in virtù del fatto che siamo con halving alle porte quindi nel medio lungo termine ovviamente il ciclo dell'halving del 2020 ovviamente svilupperà tutti i suoi effetti benefici sul mercato ci aggiorniamo nel canale telegram bitcoin facile qui nel gruppo bitcoin 3x nel canale youtube anche dove posto regolarmente dei video di aggiornamento ovviamente nei prossimi giorni faremo anche un'ulteriore diretta per andare a vedere quello che è stato l'andamento del bitcoin e del mercato nel corso del fine settimana e andare ad analizzare gli spunti e gli elementi che dobbiamo considerare nella nostra operatività a lungo termine e a breve termine bene ragazzi buon fine settimana a tutti ci aggiorniamo nel gruppo e ci vediamo la prossima settimana per una nuova diretta ciao a tutti e buona serata alla prossima